Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Dotez AC Lite 24 litri, uno zaino per un'escursione giornaliera naturalmente, di cui adesso però vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a parlare del peso di questo Dotez AC Lite 24 litri, perché esistono anche altre versioni, c'è il 17, il 30 e via dicendo, ci sono diverse versioni, c'è anche il modello da donna ed è disponibile in diversi colori. Ma di questa versione 24 litri il peso è di 960 grammi, quindi uno zaino che sta sotto il chilo. Iniziamo a parlare di questo Dotez AC Lite come solito dallo schienale. Come potete vedere troviamo uno schienale a rete che vi assicuro dà una traspirabilità veramente alta, soprattutto perché lo schienale è separato dallo zaino da 5 centimetri, quindi di aria dietro ne passa veramente tanta. Questo zaino l'ho utilizzato in giornate veramente calde e non ci ha sudato quasi nulla. Oltretutto troviamo anche una fascia lombare che è un po' diversa dalle solite fasce lombari, perché in questo caso non ci serve per andare a scaricare il peso, quanto per stabilizzare lo zaino in modo tale che quando andiamo a camminare non si muova. L'ho apprezzata molto perché è molto grande, è veramente ampia, sono anche qua un 5 centimetri di larghezza e soprattutto nella parte anteriore, oltre alla solita clip da andare a chiudere per poter chiudere la fascia lombare, troviamo anche un piccolo cordino per andare a riporre tutto il cordame che non utilizziamo, evitare che ci sballonzola davanti. Sempre per quanto riguarda la fascia lombare, vabbè, non troviamo nessun tipo di tasca dove andare a riporre il telefono, ma poi di questo ne parliamo dopo, in compenso è molto traspirante anche lei, soprattutto nella parte a contatto con il nostro corpo, quindi questa parte qua bassa, è composta da una schiuma decisamente molto molto traspirante. Per quanto riguarda gli spallacci, questi sono abbastanza grossi, proprio di grandezza, ma molto fini. Non andando a trasportare tanto carico, non abbiamo grossi problemi che possano darci fastidio, irritazione o sfregamenti e via dicendo, quindi anche lo spallaccio mi ha convinto, ed essendo così fine, avendo una tramatura di questo tipo, è molto traspirante anche il singolo spallaccio. Poi abbiamo sulla parte anteriore la possibilità di andare a chiudere la cinghia pettorale, classica, e sullo spallaccio di sinistra c'è anche un piccolo anellino, una piccola cordina, dove andare a riporre i nostri occhiali da sole, che questo è un piccolo gadget che Dote mette sempre. Ma visto che ve ne ho parlato, quanti chili ci porterai con questo zaino? Secondo me 5 sono i chili massimi, 6 proprio proprio in casi eccezionali, ma con 5 chili non andrei oltre. Anche perché comunque è abbastanza piccolo e riempirlo con più di 5 chili la vedo anche un po' dura. Concludo parlandovi dello schienale, raccontandovi che ha tutta la struttura in ferro per sostenere il carico. La possiamo benissimo vedere ed è una struttura AX apposta che ci aiuta a bilanciare il carico nel momento in cui andiamo a camminare. Questa struttura è molto particolare perché quasi mai la si trova su degli zaini di un litraggio così piccolo. Continuo a parlarvi di questo zaino andandovelo a girare. Partiamo da questa parte laterale. Da questa parte cosa troviamo? Semplicemente la tasca dove andare a riporre la borraccia e nient'altro. La borraccia facciamo abbastanza fatica a prenderla da soli perché non ha un'apertura che ci permette di poterla prendere e riporre in autonomia. Però, vabbè, nel senso comunque essendo uno zaino piccolino è anche più semplice andare a toglierlo e rimetterlo in caso dovessimo bere. Sempre da questa parte abbiamo poi la possibilità di riporre i bastoncini. Ne abbiamo solo uno con la parte superiore per chiudere l'impugnatura del bastoncino e nella parte inferiore però troviamo due anelli dove andare a riporli. Quindi poter mettere ogni singolo bastoncino nel suo anello. Particolarmente apprezzata questa soluzione perché ci dà modo di poter riporre molto più facilmente entrambi i bastoncini. Per quanto riguarda lo schienale, come potete vedere, non c'è praticamente nulla. Diciamo che secondo me una tasca da questa parte l'avrebbero potuta mettere se è stata anche molto apprezzata, magari una tasca rete. Però è veramente semplice, non c'è praticamente nulla e possiamo anche intuire guardandolo bene che è uno zaino fatto a sacca unica. Quindi non abbiamo aperture inferiori o laterali per i quali poter andare a recuperare lo immateriale nella parte inferiore. Però è uno zaino piccolino quindi anche recuperare qualcosa in basso non si fa così tanta fatica. Concludiamo l'analisi dello zaino guardando sulla destra. Qui cosa troviamo? Troviamo una tasca a rete chiudibile con una cerniera e qui possiamo andare a riporre il nostro smartphone, magari una barretta e via dicendo. E qua riusciamo a recuperare il telefono anche mentre siamo in movimento da soli. Continuando parliamo della parte superiore. Nella parte superiore troviamo una singola tasca esterna dove poter andare a riporre una torcia, un qualche snack e via dicendo. Una tasca comunque non troppo grossa. E invece per quanto riguarda l'apertura questa è classica con un semplice cordino di andare a tirare e la si apre e la si chiude. Davvero apertura molto molto classica. Per quanto riguarda comparto acqua come vi dicevo una singola borraccia possiamo portare. Dentro c'è la possibilità di andare a mettere una vescica d'acqua tipo camelback con possibilità di far uscire la proboscide sul davanti. E troviamo anche sotto il rain cover già dato in dotazione da dotè. Quindi comunque per quanto riguarda l'acqua una dotazione diciamo completa. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo dotè AC light 24 litri. Ve lo consiglio? Sì. Io mi sono trovato veramente molto bene come zaino per escursione giornaliera. È praticamente quasi perfetto. Se proprio proprio dai una tasca davanti l'avrei particolarmente apprezzata. Ha un prezzo non indifferente perché è venduto sui 100-110 euro e per un zaino da 24 litri sono abbastanza. Però la qualità materiale di dotè non si discute. Soprattutto anche l'attenzione all'ambiente di dotè non si discute. Quindi diciamo che in generale il prezzo è consono anche rispetto alla durabilità dei materiali e del prodotto. Noto ciò ragazzi. Io ne ho speranza di essere stato esauriente e esaurito anche per questo video. Vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!